Buongiorno a tutti, oggi continueremo a parlare di utenza speciale e ovviamente, come dico sempre in tutti i video, questi contenuti sono rivolti a colleghi o comunque giovani dottori altri studenti di dottorietria che vogliono approfondire le loro conoscenze, però il tutto va associato a libri di testo, linee guida ministeriali e anche alla frequenza all'interno degli studi. Oggi inizieremo a parlare di quello che è il paziente epatopatico, come deve essere gestito all'interno dello studio odontoiatrico nel momento in cui deve fare delle terapie. Dobbiamo ricordarci per prima cosa che il paziente epatopatico può avere varie patologie a carico del fegato, le più frequenti sono appunto la cirrosi epatica e anche le epatiti, soprattutto quelle su base virale. Infatti, le epatiti virali rientrano poi nel management del paziente infettivo che vedremo dopo. Nel paziente epatopatico, dal momento che il fegato appunto è affetto da patologia, non ci sarà un'adeguata sintesi dei fattori della coagulazione e quindi avremo una ridotta sintesi dei fattori della coagulazione e anche delle piastrinopenie, tant'è che nei casi più gravi questi pazienti sono costerti a fare delle sacche piastriniche. Quindi è fondamentale in questi pazienti, se hanno un'epatopatia lieve, è possibile trattarli in studio ed è fondamentale fare una corretta profilassia antiemorragica associata all'assunzione molto spesso di vitamina K. Inoltre la funzione epatica è ridotta, quindi bisognerà evitare tutti quelli che sono i farmaci epatotossici, quindi evitare l'acido acetilsalicilico, l'animesulide, le tetracicline, il prednisone, l'eritromicina, i macroolidi. Si possono somministrare invece le penicilline, il paracetamolo e anche gli anestetici su base esterea. Il rischio emorragico è legato soprattutto ai circoli venosi collaterali che comportano un sequestro piastrinico, le cosiddette caput meduse, cioè le vene emorroidarie che si ingrossano, anche le varici isofagie e la splenomegalia. Quindi dovremo richiedere in primis la funzione epatica e poi anche l'emocromo e l'assetto coagulativo. A livello clinico in questi pazienti potremo riscontrare un ittero a livello della pelvi sublinguale, petecchie, candida, chelite angolare, atrofia linguale e alitosi, il classico fetor epatico. Per quanto riguarda il paziente diabetico possiamo distinguere in linea molto generale due forme di diabete. Il diabete mellito 1 che è quello insulino dipendente, il diabete mellito 2 che è quello insulino indipendente che è trattabile nel privato se però è compensato con la terapia. Ci sono diverse problematiche connesse al diabete, tra queste abbiamo appunto la cirrosi epatica, l'ipertensione e poi c'è anche una micro e una macroangiopatia che comporterà una retinopatia diabetica e una nefropatia diabetica. Ci sarà un'iposcialia all'interno del cavorale e questo aumenterà le carie rampanti, ci si può essere candidosi e malattia parodontale e c'è anche un aumento delle infezioni da gram negativi a nerubi perché c'è un callo della prima linea di difesa dell'organismo che è rappresentata dai polimorfo nucleati, quindi ci può essere anche il rischio di alveolite sicca, osteiti, osteomieliti e osteonecrosi. E la guarigione è lenta proprio perché la sintesi proteica è alterata. La gestione specifica prevede quella appunto di non somministrare acido acetilsalicilico e corticosteroidi, evitare lo stress, fare interventi brevi e di mattina, far prendere appunto la pillola e far fare colazione normalmente, eseguire anestesia verde e non la tronculare, la profilassia antibiotica è sempre raccomandata. In ospedale il limite di operabilità è di 180 mg per decilitro di glicemia. È importante richiedere la glicemia, la curva da caricolare di glucosio, l'emoglobina glicosilata, l'emocromo e l'assetto coagulativo. Normalmente in un soggetto sano la glicemia è tra i 70 e i 110 mg per decilitro. Se siamo oltre i 126 si parlerà di diabete. L'emoglobina glicata o glicosilata indica la compensazione del diabete e l'aderenza alla terapia con gli ipoglicemizzanti orali come per esempio la metformina. Se la glicosilata è maggiore del 9% indica un'incompensazione totale. Se è maggiore del 7% invece indica un'incompensazione parziale. In caso di coma iper o ipoglicemico le manifestazioni cliniche sono le stesse quindi la diagnosi differenziale si pone con lo stick cioè con il glucometer. Si dà la glucosata in doveno, lo zucchero nel coma ipoglicemico, l'insulina in dovena nel coma iperglicemico. Il coma ipoglicemico prevede appunto la presenza della cosiddetta triadem di Whipple quindi sintomi ovvero sudorazione, nausea, vomito, sincope eccetera, glicemia sotto i 50 e poi regressione dei sintomi dopo l'assunzione di zucchero o anche di glucosata. Un altro capitolo importante è quello della paziente in gravidanza. Diciamo che nella gravidanza il primo trimestre è molto pericoloso se appunto si tratta la donna perché c'è l'organogenesi e quindi c'è il rischio di avere malformazioni. Il secondo trimestre è quello più sicuro, il terzo trimestre invece è altrettanto comunque pericoloso perché c'è il rischio di avere l'aborto e parti pretermine con bambini che avranno appunto delle problematiche polmonari perché le alveoli non saranno correttamente sviluppati. La donna in gravidanza avrà problemi di malattia parodontale, di epulide gravidica ma anche di carie. È importante evitare lo stress. Ci può essere l'ipotimia per ipotensione ortostatica e bisognerà evitare esami radiografici, tetracicline e cloranfenicolo in particolar modo le tetracicline perché tendono appunto a interferire con i processi di crescita in quanto che la non rioni calcio interferiscono con la crescita delle ossa e anche dei denti. Evitare sul riunito la posizione supina perché ci può essere la cosiddetta sindrome da compressione della vena cava. Bisogna fare gli interventi urgenti soltanto previo consulto ginecologico. Gli altri interventi bisognerà cercare di rimandarli dopo la gravidanza. Chiaro che nel secondo trimestre magari se una paziente ha una scarsigine orale, quindi ha molto tartaro, la salute orale in gravidanza è comunque importante, quindi un'avlazione del tartaro molto molto leggera senza far sentire dolore alla donna si può fare. Poi abbiamo un altro capitolo che è quello del paziente nefropatico. Diciamo che nell'ambito del paziente nefropatico distinguiamo tre tipi, tre patologie importanti, l'insufficienza renale, la dialisi e il trapianto renale. L'insufficienza renale può essere di tre gradi lieve e prevede appunto una bonifica del cavo orale media o grave. In quella grave avremo appunto una stomatopatia oremica e non bisognerà intervenire odontoiatricamente. Avremo xerostomia, stomatopatia oremica caratterizzata dalla presenza di placche biancastre nel cavo orale simile alle eucoplasiche, ulcere, eritemi, edemi, ci può essere anche la burning mouth syndrome eccetera. Presente è anche l'alitosi oremica ammoniacale, la diagnosi con l'anamnesi e gli esami di laboratorio, il trattamento è la full mouth disinfection, l'oral balance, gli antimicodici, gli antibatterici. Ci può essere il rischio emorragico per piastrinopatia oremica, non dare farmaci e iscrizione renale, bensì dare farmaci e iscrizione epatica. Poi il paziente dializzato può fare due tipi di dialisi. La dialisi ematica, dove fai parina e la dialisi la fa giorni alterni, e bisognerà trattarla nei giorni in cui non fa le parine e quindi non fa la dialisi. E la peritoneale, che invece appunto consiste nell'esecuzione di una fistola nel braccio, permette maggiore libertà di movimento al paziente e questa è più facile da gestire in studio. Il trapianto renale invece, il paziente con trapianto di rene, diciamo che non può tanto essere trattato nel privato ovviamente, perché spesso è immunodepresso, ci vuole una profilassia antibiotica complessa, quindi molto spesso è sempre meglio mandarlo in ospedale. In studio si può trattare prima del trapianto per fare una full mouth disinfection e per rimuovere tutti quelli che sono i fuciodontogeni. Poi c'è il paziente allergico. Diciamo che nel paziente allergico in anamnesi riveleremo appunto la presenza di atopia e quindi bisognerà capire a quali allergeni è sensibile il paziente, quindi se ad apteni generali, se ad apteni odontoiatrici. In particolare può essere allergico ai betalattami, ai fans, agli anestetici locali utilizzati in odontoiatria, in particolare l'armuda e i parabeni come il metabisolfito, ai pollini, ai cibi, ai dentifrici e alle spezie, ai metacrilati delle resine, al lattice e al nickel delle capsule e dei fili ortodontici. È molto pericolosa, diciamo, l'allergia al lattice, perché ovviamente è una forma che presenta spesso delle cross-reaction con allergia ad altri alimenti come le banane, il mango, la papaya, la nocciola, eccetera, e sono delle forme molto resistenti alle terapie, quindi ci possono essere delle anafilassi molto molto, diciamo, pericolose e quindi bisognerà stare molto molto attenti in questi pazienti a fare una buona anamnesi ed allestire tutta una sala operatoria che sia latex free, con guanti in vinile e non in lattice, tubo fiale di vetro e non in lattice e quindi la massima attenzione. È importante richiedere il consulto dell'allergologo, quindi dovrai seguire il paziente Prist e Rast, gli skin prick test, il numero di bucaina può essere utile per vedere appunto se è allergico all'anestetico, il ponfo che viene eseguito a livello intraorale ha soltanto una valenza medico-legale. In caso di anafilassi, che cosa bisogna fare sostanzialmente? Bisognerà prendere una vena pre-operatoriamente, in caso di anafilassi somministrare adrenalina antistaminica e cortisone e mettere in trendellenburg il paziente. La profilassi antiallergica prevede appunto la prescrizione di due compresse di delta cortene da 25 mg, due compresse 13 ore prima dell'intervento, due compresse 7 ore prima e due compresse 1 ora prima per un totale di 150 mg, più all'ultima somministrazione associare un antistaminico qualsiasi che può essere anche la desloratadina, per esempio l'Aerius, da 5 mg. Nell'ambito del paziente allergico abbiamo il paziente asmatico, che è caratterizzato da un'ostruzione delle vie aeree con dispnea e stridure, può essere un asma allergico o non allergico per stress bronchiti o esposizioni professionali. Nel paziente comunque asmatico è importante evitare lo stress, e in caso di crisi asmatica, diciamo, somministrare ossigeno e far fare 4 puff di salbutamolo, cioè di ventoli, al paziente, al quale appunto bisognerà raccomandarli di portarlo sempre con sé. La sedazione conscia, i corticosteroidi, l'anestesia verde sono sempre raccomandati, evitare acido acetilsalicilico e FANS, somministrare invece paracetamolo e nimesulide. Poi abbiamo invece il paziente neurologico e psichiatrico, abbiamo il paziente con ischemia cerebrale, cioè con ictus, l'ictus può essere ischemico o anche emorragico, ischemico se è legato a un'occlusione di un'arteria cerebrale, emorragico invece se è legato alla rottura di un'arteria o di una vina cerebrale con emorragia, soprattutto a livello del poligono del Willis. È importante capire subito in anamnesi che il paziente ha avuto questo tipo di problematica e ovviamente molto spesso i pazienti che hanno avuto l'ictus, come sappiamo, possono essere affetti da afasie di Broca o di Wernick, quindi in anamnesi sarà difficile per loro comunicare il problema e quindi è importante il consulto del caregiver. C'è il rischio di abingestis perché molto spesso hanno disfagia, quindi bisognerà assicurare gli strumenti con il filo e può assumere cardiospirina, doppia terapia antiaggregante o anticoagulanti e quindi lì subentra poi tutto il protocollo che abbiamo visto nel video precedente. Se il paziente ha l'ictus in studio bisognerà intervenire prontamente e ovviamente gestirlo correttamente, però la gestione dell'ictus in studio la vedremo prossimamente. Nell'ambito del paziente neurologico e psichiatrico rientra anche il paziente epilettico. Che cos'è l'epilessia? Non sono altro che delle scariche neuronali asincrone, possono essere parziali le cosiddette crisi jezzoniane o totali, il cosiddetto grande male epilettico. E' importante in questo caso andare a fare un consulto del neurologo. Bisognerà evitare in studio la luce della scialitica, cioè del riunito, perché ci può essere il cosiddetto effetto stroboscopico che può indurre un'epilessia fotosensibile. Dare, cioè mettere in faccia al paziente spesso gli occhiali protettivi può essere utile. Ci può essere il rischio di abingestis durante la crisi, quindi anche qui assicurare tutti gli strumenti con il filo. Le seduti devono essere brevi, eseguite in un ambiente tranquillo e privo di stress, perché anche lo stress può indurre crisi epilettiche, rimuovere tutti quelli che sono gli oggetti pericolosi, prediligere le abilitazioni protesiche fisse ed evitare l'utilizzo del vaso costruttore. Può essere utile richiedere il dosaggio dell'antiepilettico al paziente per capire la sua aderenza alla terapia ed è importante durante un intervento di chirurgia orale prendere una vena preoperatoriamente per ansiolisi e in caso di emergenza andare a somministrare il diazepam, proteggere il paziente da traumi, non bloccare le arti, ruotare a fine crisi in posizioni di decubito laterale di sicurezza e non inserire niente in bocca. La risoluzione avviene in 3-5 minuti, quindi se va oltre quel tempo chiamare il 118. Ovviamente il paziente non avverte dolore durante la crisi. Poi c'è il paziente con demenza e con oligofrenia. La demenza fondamentalmente è l'Alzheimer, l'oligofrenia è un ritardo mentale congenito. Anche qui è importante sensibilizzare il caregiver ad una prevenzione primaria della carie, quindi questo tipo di paziente molto spesso è affetto da iposcialia e quindi avrà una scarsa degenerale, c'è un aumento del rischio di carie. Se non è possibile sensibilizzare il caregiver o anche il paziente in un certo qual modo, bisognerà terapizzarlo. E qui il tutto cambia a seconda che sia mediamente collaborante, scarsamente collaborante oppure assolutamente non collaborante. Se non è proprio collaborante bisognerà mandarlo in ospedale per fare la narcosi. Se è poco collaborante, cioè scarsamente collaborante, è importante il consulto del caregiver più associazione di una sedazione conscia con benzodiazepine o anche appunto con il protossido di azoto. Se è mediamente collaborante, diciamo, bisognerà trattarlo in studio con dei tempi di intervento abbastanza brevi e con delle sedute che siano più vicine possibile alla sua terapia farmacologica in modo tale che sia più lucido, ovviamente. Poi c'è la sclerosi multipla che colpisce soprattutto pazienti giovani o comunque pazienti adulti e qui soprattutto abbiamo infezioni orali per immunodepressione perché appunto assumono steroidi, molto spesso immunosopressori e bifosfonati. Quindi comunque ci può essere un rischio di osteonecrosi. La profilassia antibiotica è raccomandata, è importante anche qui il consulto del caregiver, ci può essere la disfagia e quindi il rischio di abingestis. È importante anche qui la prevenzione primaria. Poi c'è il paziente con Parkinson che è caratterizzato dalla presenza di queste discinesie. È importante l'ansiolisi e diciamo l'attuazione di sedute odontoiatriche brevi. Anche qui ci può essere il rischio di abingestis per disfagia. L'ipersalivazione perché appunto assume la levodopa rende difficile quelle che sono le pratiche adesive odontoiatriche e bisognerà trattarlo quando assume la levodopa in quanto avrà ovviamente minori discinesie. Sarà più semplice da trattare. Consigliare in questi pazienti dal momento che hanno le discinesie è lo spazzolino elettrico e l'ipotensione ortostatica in questi pazienti può essere presente e quindi non bisognerà reclinarli eccessivamente. Poi abbiamo il paziente ansioso detto anche paziente odontofobico cioè il classico paziente che ha paura del dentista. L'odontofobia diciamo che è un fenomeno abbastanza diffuso anche se negli ultimi anni l'evoluzione della professione che ha subito la professione odontoiatrica sta permettendo anche una minima riduzione di questo tipo di fenomeno perché spesso è anche legata a pregresse esperienze del paziente poco piacevoli dal dentista. Magari fare un intervento chirurgico senza anestesia quindi la paura del dolore da parte del paziente e così via. Dal momento che però non sono comunque uno psicologo per analizzare nel dettaglio questi aspetti quindi queste cose comunque rimando sempre ad articoli scientifici eccetera eccetera quello che qui voglio sottolineare è la gestione del paziente ansioso in studio. L'ansia, la sua paura può derivare appunto da varie cause come abbiamo detto ma può determinare due effetti sull'organismo l'ansia o la cosiddetta reazione attacco-fuga e quindi una scarica di adrenalina che determina poi una tachicardia riflessa eccetera oppure la reazione opposta e quindi una sincope vasovagale ovviamente da gestire entrambe queste due situazioni e in più l'ansia in un soggetto sano non è un problema però comunque in un soggetto con delle patologie di base può essere comunque importante magari abbiamo un paziente cardiopatico compensato però questo magari va appunto in ansia alla scarica adrenergica alla reazione adrenergica e quindi gli va praticamente a scompensare quella che è la patologia di base tant'è che il paziente ansioso nella classificazione ASA non è considerato ASA 1 ma è considerato ASA 2 cioè si definisce un paziente ASA 2 un paziente che è ASA 1 però comunque è ansioso ovviamente ci può appunto per esempio essere se questo paziente ha delle malattie cardiovascolari ci può essere per esempio un picco ipertensivo un infarto del neocardio e così via o se un paziente epilettico compensato a seguito dell'ansia e dello stress può avere appunto una crisi epilettica può andare in sindrome da iperventilazione cioè una vera e propria alcalosi respiratoria che aumenta il pH ematico e provoca tetania e ipocalcemia con il segno di Chovstek e di Trousseau e ovviamente in quel caso sarà importante dare l'EN al paziente e somministrare calcio e evitare lo stress nei pazienti ansiosi è fondamentale comunque l'ansiolisi che si può fare appunto in vari modi oppure anche la sedazione conscia profonda bisogna valutare il grado di ansia con la scala di Goldberg e dare il volume 10 mg nei 3 ml e 23 gocce qui valgono 1 mg nel paziente invece non collaborante la gestione è un po' diversa può essere non collaborante per ansia e quindi la stessa del paziente ansioso ma anche non collaborante per delle disabilità quindi delle patologie specifiche come la sindrome di Down la sindrome del Cruduscia e così via il grado di collaborazione può essere alto il trattamento è normale medio come nello schizofrenico e quindi in quel caso si può fare la sedazione conscia e in questi pazienti è possibile anche fare RX assente o scarso allora in quel caso bisognerà cercare di fare tutte le terapie in una sola seduta diciamo trattarli sul consenso dei genitori perché ovviamente non sono in grado di intendere di volere poi ci vorrà una doppia visita un doppio consenso anestesiologico e cardiologico ovviamente si fanno in anestesia generale e bisognerà evitare RX cioè non si possono fare RX per lo scarso grado di collaborazione avranno anche una scarsa generale e la scialitica in questi pazienti può indurre epilessia è chiaro che questo tipo di pazienti vanno trattati in ospedale poi abbiamo il paziente infettivo per quanto riguarda il paziente infettivo rappresenta praticamente la punta dell'iceberg in realtà perché come noi sappiamo ormai dalla storia dei tempi e da quello che ci ha anche insegnato un po' questa pandemia fondamentalmente molti sono i portatori sani quindi il principio cardine della medicina è di trattare tutti i pazienti come se fossero potenzialmente infettivi e quindi proteggersi in maniera adeguata in studio con i dispositivi di protezione individuale perché le patologie infettive in studio le cosiddette cross infection cioè le infezioni incrociate possono essere trasmesse appunto da un paziente all'altro dall'operatore al paziente in maniera diretta e indiretta attraverso il sangue, l'aria, l'acqua ci sono diverse vie di trasmissione per esempio anche uno scarso riciclo degli strumenti un poco tempo tra i pazienti numerose superfici contaminabili personale non preparato e così via possono predisporre tutto ciò e ovviamente per quanto riguarda le, diciamo, i componenti di uno studio il rischio più alto ovviamente c'era il dentista poi a servire l'igienista poi l'aso poi il tecnico e alla fine la segretaria e ovviamente è importante quindi prevenire queste cross infection con delle norme comportamentali idonee con dei mezzi di protezione adeguati e con delle procedure di disinfezione e di sterilizzazione è importante quindi disinfettare le superfici e applicare dei rivestimenti con pellicole di etilene effettuare un lavaggio delle mani idoneo indossare i dispositivi di protezione individuale quindi camici, guanti, mascherine, occhiali, schermi cuffie protettive, la diga e così via aspirare la saliva e il sangue durante la seduta maneggiare con cura gli strumenti taglienti indossare dei guanti antitaglio la disinfezione è praticamente una procedura che prevede la distruzione dei microrganismi patogeni esclusi le spore per ambienti, piani di lavoro e strumentario che non è autoclavabile con prodotti differenti la sterilizzazione invece è l'uccisione di germi e spore per la restante quota di strumentario l'antisepsi invece è l'eliminazione o distruzione dei microrganismi sulla cute o sui tessuti viventi con alcol al 70-90% clorexidina o iodio povidone la cosiddetta iodizzazione la disinfezione può essere eseguita ad alto livello per strumenti che entrano a contatto con le mucose e quindi i cosiddetti strumenti critici intermedio con strumenti che vanno a contatto con cute mucose i cosiddetti semi critici oppure basso quelli che non vengono a contatto col paziente e quindi quelli non critici la disinfezione può essere fisica con calore umido filtrazione raggio biochimica con aldeidi, cloroderivati, alcoli, fenoli, iodofori clorexidina, sali di ammonio quaternario molto utilizzati sono la glutaraldeide al 2% il perossido di idrogeno al 6% e i cloroderivati tra 0,1 e 0,5% come concentrazione la sterilizzazione può essere fisica in autoclave col calore umido oppure col calore secco con infrarossi oppure con raggi gamma o con microonde, vapori chimici o pallini di quarzo chimica glutaraldeide 2% o ossido di etiline vanno imbustati gli strumenti e sulla busta appunto dello strumento per capire che esterilizzato deve esserci il pallino marrone questo l'ho scoperto addirittura dopo un anno dall'università perché purtroppo nell'università queste cose neanche le spiegano non sanno nemmeno che cosa siano queste cose probabilmente noi professori non sono molto interessati a spiegarle quali sono le vaccinazioni consigliate in ambito odontoiatrico per proteggersi dalle patologie infettive l'antiepatite B, l'antitetanica, l'antitubercolare, l'antinfluenzale, l'antirosolia, l'antiparotite, l'antimorbillo e adesso anche il vaccino per il covid sul quale appunto non entro per il momento in merito perché comunque diciamo c'è stata molta di atriba a riguardo è importante comunque mettere il paziente infettivo a fine seduta in caso di puntura accidentale a un ago utilizzato sul paziente infettivo soprattutto all'ago cavo per anestesie fare un prelevo del sangue a tempo zero uno, tre e poi sei mesi e poi un anno e valutare il titolo anticorpale e quindi puoi comunque riferire l'incidente che è avvenuto alla medicina del lavoro eccetera eccetera perché si può essere comunque risarciti quindi comunque ci può essere il rischio di puntura e quindi bisogna anche disinfettare prima con l'acqua ossigenata l'eventuale ferita e poi attivare tutta la procedura chiaramente se siamo in uno studio privato bisognerà comunque chiamare il pronto soccorso recarsi comunque in ospedale per spiegare l'accaduto perché comunque è un infortunio sul lavoro riconoscere il volto del tossicodipendente può essere utile anche per capire se ci ritroviamo anche di fronte a un paziente infettivo o meno nel paziente tossicodipendente spesso l'anestetico non prende proprio o inoltre hanno delle carie rampanti quindi delle carie multiple soprattutto sui denti diciamo posteriori e la soglia del dolore non è come in un soggetto normale ma si innalza notevolmente quindi non avvertono dolore infatti loro nelle crisi di astinenza praticamente assumono metadone non avvertono dolore e praticamente assumono molto cioccolato e quindi tendono a cariarsi notevolmente i denti le patologie infettive di rilievo per l'odontoiatra sono appunto le epatiti come dicevo all'inizio di questo video e si possono spesso riconoscere con l'ittero a livello oculare anche a livello della pelvi sublinguale e chiaramente nell'ambito dell'epatiti abbiamo l'epatite A che ha appunto una trasmissione su base orofecale l'epatite B che invece è molto resistente il virus dell'epatite B quindi è una termoresistenza può sopravvivere negli ambienti del proprio studio addirittura per anni se appunto le pratiche di sterilizzazione non vengono eseguite in maniera idonea e per fortuna però per l'epatite B c'è la copertura vaccinale per fortuna anche se ogni tanto bisognerà comunque andare a valutare il titolo anticorpale perché molto spesso è importante fare dei richiami perché se questo titolo anticorpale scende sotto i venti bisognerà fare appunto dei richiami e vedere un po' se rifarla alla vaccinazione poi c'è l'epatite C e poi la delta la delta si sovra instaura su un'infezione da B poi c'è anche la tuberculosi e poi anche l'influenza stagionale la legionella, la cosiddetta malattia da legionari dove ho letto molti articoli ultimamente sul web che sta provocando diverse, diciamo, chiamiamole così infezioni, non so come ali quindi sta provocando diversi focolai piccoli anche all'interno degli ospedali perché comunque è una patologia che ha il suo serbatoio molto spesso anche nei condizionatori, nei climatizzatori che non vengono appunto diciamo sottoposti a dei controlli periodici probabilmente anche nelle piscine c'è il serbatoio di questo tipo di patologia è molto molto fastidiosa come patologia comunque anche a livello di sintomi e poi ovviamente c'è il coronavirus 2019 nuova patologia del secolo ovviamente che è importante per l'odontoiatra perché deve conoscerlo oltre all'ITS è famosissima chiaramente però il covid ha cambiato anche secondo me il modo di lavorare all'interno dello studio eccetera eccetera perché prima le norme diciamo anticontagio erano così rispettate ma in maniera molto più bassa sicuramente il covid ha cambiato tutto e ovviamente è una contagiosità alta soprattutto per le nuove varianti come sappiamo, sentiamo tutti i telegiornali c'è la variante brasiliana, quella inglese, quella sudafricana come mai è nato il covid ovviamente non si sa ancora però si suppone lo spillover cioè il salto di specie da alcuni animali praticamente c'è chi pensa appunto dal pipistrello c'è chi pensa ad altri animali che ci sono in Cina non mi ricordo neanche i nomi di questi animali sinceramente però non si è ancora capito c'è chi le teorie del complottismo che magari sono anche un po' assurde dice appunto che si è stato creato in laboratorio eccetera eccetera ovviamente il periodo di incubazione della patologia oscilla tra i 5 e i 14 giorni come possiamo vedere sul sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità le manifestazioni cliniche possono essere differenti come sappiamo il paziente può avere il covid ma non avere sintomi e quindi essere asintomatico il classico portatore sano la ricerca del cosiddetto paziente zero e così via può essere anche paucisintomatico e quindi può dare una sindrome parasimile influenzale e poi può essere anche sintomatico e quindi in quei casi può dare anche delle forme gravi e quindi delle polmoniti virali che provocano delle alveoliti non delle alveoliti delle alveolio dentali delle alveoliti polmonari cioè praticamente si forma un essudato che determina dispnea è una fotologia che ha un decorso molto lungo in una prima fase c'è una sindrome similinfluenzale nella seconda fase si instaura la polmonite nella terza fase infatti quindi nella terza settimana poi c'è una tempesta citochinica che creava ulteriormente la polmonite e poi la quarta settimana c'è la convalescenza non si riesce a capire se l'avvenuta infezione conferisca l'immunità i vaccini danno l'immunità come abbiamo visto adesso sembrerebbe per un periodo di tempo limitato però potrebbero, cioè la danno sicuramente almeno per un anno da quello che dicono gli esperti è stato visto che comunque i bambini sono diciamo meno suscettibili alle infezioni all'infezione e quindi tendono ad avere delle forme sintomatiche o poche sintomatiche possono trasmetterla gli operatori sanitari sono molto a rischio e quindi ovviamente ho visto su internet ovviamente era affidabile quali sono le figure professionali più a rischio di contrarre il covid-19 e ovviamente le odontoiatri sono proprio al primo posto tra tutti i medici e tutti gli operatori sanitari ma perché? perché banalmente anche più magari di un medico che come dire forse il medico che lavora nel reparto di rianimazione quindi nelle terapie intensive dove ci sono i pazienti covid è più a rischio delle odontoiatri secondo me perché sa per certo che lavora appunto con un paziente diciamo positivo però dopo quelli sicuramente l'odontoiatra alla pari dello Torino sono i medici più a rischio ma l'odontoiatra è a rischio perché ovviamente le procedure che effettua l'odontoiatra quindi le aree che produce sono notevoli quindi se non fa ventilare adeguatamente le stanze se non ha la visiera se non ha la mascherina ovviamente diventa molto difficile prevenire il contagio sono stati poi utilizzati nell'attesa che arrivassero i vaccini o comunque vengono utilizzati diversi farmaci per cercare di gestire i sintomi della patologia da covid non li sto qui a nominare sarà vista in realtà comunque diversi farmaci per l'artesi reumatoide o farmaci per la malaria addirittura sono stati fatti alcuni studi per gli anticorpi di soggetti già guariti di iniettarli in soggetti malati però non si capisce se questi anticorpi siano soltanto diagnostici se siano anche protettivi per fortuna però poi sono arrivati appunto i vaccini e quindi ovviamente il cerchio è chiuso abbiamo almeno 5 vaccini al momento non faccio nomomi eccetera eccetera però per fortuna speriamo che con la campagna vaccinale questa infezione diventi soltanto un lontano ricordo come sappiamo tutti la diagnosi diciamo della infezione si pone con il tampone oppure anche col test serologico non entro nei dettagli di queste cose però fondamentalmente i due principali metodi diagnostici sono appunto questi due addirittura adesso adesso da un bel po' di mesi fanno fare anche i tamponi rapidi studio agli odontoriatri per quanto riguarda la vaccinazione mi ha fatto piacere comunque che sia stata aperta anche agli odontoriatri quindi anche loro possono comunque diciamo somministrare il vaccino comunque fare l'anamnesi come tutti gli altri medici però ovviamente è importante il corretto management del paziente in studio cioè come va gestito un paziente diciamo positivo al covid come si fa a capire se è positivo come si gestisce tutta questa situazione in studio è importante il triage telefonico l'informazione e il consenso in accettazione è importante ovviamente misurare la temperatura col termoscanner e col termometro contactless utilizzare diciamo far utilizzare al paziente diciamo dei gel idroalcolici che permettono appunto di disinfettare le mani deposizione degli effetti personali prima di entrare nelle sale operative per una maggiore igiene la mascherina la deve indossare il paziente fino all'inizio della seduta operativa e deve compilare e sottoscrivere il questionario covid e ovviamente gli accompagnatori non ci devono essere a meno che non sia un paziente che abbia dei problemi in sala d'attesa la distanza deve essere da almeno di un metro tra un paziente e l'altro deve essere areata bisognerà rimuovere riviste libri e oggetti ovviamente gli operatori che lavorano in studio dovranno utilizzare le mascherine almeno FFP2 più una chirurgica da sopra non sto ad entrare nei dettagli delle caratteristiche diciamo della differenza tra FFP2 FFP3 FFP1 non fuorvierebbe da questo video però diciamo che le mascherine sono per proteggere ovviamente le vie respiratorie ma per proteggere gli occhi è importante appunto utilizzare o degli occhiali con delle stanghette specifiche oppure appunto schermi e visiere il corpo va protetto con camice monouso idrorepellente cuffia e scarpe specifiche quanti monouso per proteggere le mani e la vestizione e la svestizione deve essere fatta in maniera adeguata c'è una formazione specifica a riguardo sul sito dell'istituto superiore della sanità si fa vedere appunto come uno dovrebbe vestirsi e svestirsi e ovviamente il paziente dovrebbe sedersi e chiaramente fare degli sciacqui col conduttorio con la clorexidina è importante utilizzare la diga dispositivi con con manipoli antireflusso doppi aspiratori manipoli a basso numero di giri e prediligere quelle che sono le procedure manuali al posto di quelle con gli strumenti lotanti laddove sia possibile e basta poi bisogna far ventilare gli ambienti insomma le raccomandazioni sono più o meno sempre le stesse però è chiaro che bisogna conoscerle poi abbiamo ovviamente l'AIDS tra le altre patologie infettive l'AIDS quindi è la sindrome dell'immunodeficienza acquisita l'HIV è il virus che determina l'AIDS un retrovirus RNA trasmissibile per via sessuale parenterale materna alcuni discutono anche per la saliva infatti sono state viste delle concentrazioni infettanti in pazienti prodontopatici penetrano nelle cellule dell'Hangerhans e provoca la morte dei linfociti TL per CD4 più con immunodepressione a livello orale avremo leucoplachia capelluta chelite angolare candida herpes virus epstein bar virus parodontopatia aggressiva gulennoma sarcoma di caposi actinomicosi micosi profonde HPV citomegalovirus afte linfomi e carcinomi quindi tutte le patologie legate a un'alterazione nel rapporto ospite diciamo parassita diciamo e la diagnosi clinica è sierologica con un'alterazione del rapporto T4T8 il trattamento con l'AART cioè gli inibitori delle proteasi della trascrittasi inversa come la mivudina zitovudina eccetera che provocano anche però delle pigmentazioni orali come effetto Rebaud è chiaro che non si riesce a trovare un vaccino per questo virus perché muta continuamente anche l'origine dell'AIDS non è ben chiara però ci sono due ceppi di HIV uno nato in America e l'altro mi pare in Europa una cosa del genere per quanto riguarda il paziente immunodepresso è importante la profilassia antibiotica e la conta dei globuli bianchi perché ovviamente se è troppo bassa bisognerà mandarlo in ospedale può essere immunodepresso per trapianti graft malattie autoimmuni patologie congenite patologie acquisite come l'AIDS le ocemie linfomi farmaci e quindi assumono steroidi antibiotici immunosoppressori radioterapia chemioterapia valutare il numero dei globuli bianchi fare una buona profilassia antibiotica valutare il cavorale perché possono esserci lesioni di HIV alveolite osteite osteomelite osteonecrosi ascessi flemmoni e fistole linfadeniti e tumori per perdita dalla sorveglianza immunitaria in questi pazienti è importante fare degli interventi brevi poco invasivi delle suture con fili che non trattengano i batteri una buona full mouth disinfection e degli sciacqui con clorexidina poi se il paziente è tiriopatico nell'ambito del paziente tiriopatico distinguiamo quello con ipotiroidismo che può andare incontro al coma ipotiroideo con crisi epilettiche ipotensione bradicardia e ipotermia e quindi bisognerà dare l'idrocortisione da 100-300 mg in cui è importante richiedere il consulto dell'endocrinologo valutare la funzione di tiroidea non daranziolitici quello invece è affetto da ipertiroidismo che può andare incontro a tiriossicosi con tachicardia ipertermia dolore addorminali e ottundimento del sensorio in questo paziente con ipertiroidismo è importante richiedere il consulto dell'endocrinologo valutare la funzione della tiroide non dare adrenalina e fare una buona profilassi antibiotiche poi c'è il paziente oncologico in cui è importante diciamo rimuovere foce odontogeni prima della radio o della chemioterapia prestare attenzione alle emorragie avrà un calo delle difese immunitarie ed è importante quindi valutare all'emocromo il numero delle piastrine e anche i globuli bianchi ovviamente bisognerà cercare di fare tutte quelle che sono delle procedure più urgenti ovviamente la guarigione infatti delle ferite è molto lenta c'è il rischio anche di infezioni postoperatori poi c'è il paziente geriatrico che è un paziente diciamo caratterizzato da dentulie malattia parodontale c'è un ritardo nella guarigione delle ferite ed un calo delle difese immunitarie assumerà sicuramente dei farmaci e avrà delle patologie sistemiche c'è un calo della vitamina D quindi avrà fratture patologiche quindi quando va trattato vanno considerati tutti questi aspetti la classificazione ASA è una classificazione che è stata seguita diciamo dagli anestesisti nel privato cioè per permettere appunto nel privato di trattare diciamo i pazienti di gestirli correttamente sia nel privato che anche in ospedale però nel privato si può trattare fino ad ASA 3 ASA 1 è un paziente sano e quindi il trattamento è normale ASA 2 è un paziente con patologie sistemiche lieve o moderate come il diabete l'asma l'ipertensione arteriosa compensata oppure anche un ASA 1 ma ansioso come dicevo prima è importante qui la sedazione consa più la profilassa antibiotica l'ASA 3 invece è un paziente con una patologia sistemica grave quindi può essere un paziente con un'angina instabile un'ipertensione arteriosa moderata un paziente che ha avuto infarto ictus da più di 6 mesi o un paziente obeso con un indice di massa corporea sopra il 40 l'ASA 4 va trattato solo ed esclusivamente in ospedale l'ASA 5 si è un paziente moribondo quindi addirittura con morte cerebrale eccetera il dentista non arriverà mai a diciamo trattarlo il carrello delle emergenze da avere in studio è importante avere l'ossigeno 5 millilitri 100% inalazione per quasi tutte le emergenze l'antistaminico come la clorfenamina per reazione allergica da 25-50 mg in dovena lento in tramuscolo l'adrenalina per anafilassi asma arresto cardiaco 0,3-0,5 mg in tramuscolo in dovena l'anitroglicerina per l'angina pectoris 0,3 mg una compressa sublinguale ma attenzione se ipoteso poi anche il defibrillatore importantissimo il salbutamulo per l'asma 2 puff e l'aspirina per l'infarto del mio cardio acuto da 300 mg per os poi ci sono anche tutti i farmaci o dispositivi diciamo accessori e questi invece sono il pallone ambu la glucosata al 50% i misuratori di nr il glucagone da 1 mg per l'ipoglicemia la tropina per la bradicardia 0,5 mg intramuscolo in dovena l'efedrina per l'ipotensione da 5 mg in dovena o 10-25 mg intramuscolo l'idrocortisone per insufficienze del sorrene da 100 mg intramuscolo in dovena il protossido di azoto per l'angina pectoris 35% da associare all'ossigeno comunque si può anche arrivare fino al 65% col protossido il diazepam per l'epilessia da 10 mg in dovena flumazenil stick glucomiter zucchero fisiologica e poi l'idralipid che viene utilizzato per l'arresto cardiaco legato appunto all'anestetico locale il ciclo del BLSD lo conosciamo tutti è importante avere quindi questo defibrillatore automatico semiautomatico è importante mantenere il suo stato di coscienza la pervietà delle vie aeree il respiro e il circolo bisogna ovviamente considerare che le volte ci può essere una morte cardiaca improvvisa per fibrillazione ventricolare in pazienti apparentemente sani oppure per ischemia cardiaca diabete insufficienza renale cronica l'incidenza è tra i 45 e i 75 anni sono 1 su 1000 colpiti ogni anno quali sono i ritmi dell'arresto cardiaco ci sono quelli defibrillabili col defibrillatore appunto e quindi la fibrillazione ventricolare l'attacchi cardia ventricolare e non defibrillabili cioè la sistolia e la PEA cioè l'attività elettrica senza polso quando un paziente è in arresto cardiaco avrà tre no quattro caratteristiche cioè uno è incosciente due non respira tre non ha circolo e quattro bisogna iniziare la rianimazione cardiopolmonare quindi posizionare le placche del defibrillatore sul petto del paziente una in sede sotto clavicolare destra e una in sede sotto scellare sinistra parallela all'asse maggiore del corpo e andare ovviamente a defibrillare chiaro che ci sono le compressioni diciamo toraciche da fare nel modo giusto l'insufflazione di aree eccetera eccetera però su questo non entro nei dettagli perché si fanno appunto i corsi specifici inoltre per una punto di altra è importante avere un minimo di conoscenza di quella che è la patologia di confine molto velocemente abbiamo appunto i deficit dei nervi cranici tra questi abbiamo il trigemino come deficit motorio per lesioni del ponte sensitivo per estrazioni quindi danni a carico dell'alveolare inferiore poi il facciale la paralisi di Bell il glossofaringeo disfagia o anche la nevralgia del glossofaringeo l'ipoglosto la paralisi dell'ipoglosto per le sindrome alterne poi ci possono essere le turbe del linguaggio le dislalie cioè le balbuzie per deficit delle sillabe e le disartrie cioè i deficit nella produzione della varola per sclerosi multipla ictus levodopa parkinson e sclerosi laterale e neotropica la ridotta apertura della bocca è legata a cause extra articolari come sindrome hemifasciale pericoronariti trismi infezione d'ontogene fibrosi tetane ascessi tonsillare o interarticolari sinuviti capsuliti traumico nemartro fratture gondilare artriti artrosi discopatie aderenze e adesioni l'otalgia diciamo è chiaramente di competenza dell'otorino però l'otalgia deve essere in grado comunque di sapere quali possono essere le cause possono essere sì delle cause otorino-oringoiatriche barotrauma zoster tumori otiti mastoiditi ma anche cause non otorino-oringoiatriche quindi disordini cranio-mandibolari tonsilliti carie pulpiti ascessi e tumori gli acufeni possono essere soggettivi cioè se sono percepiti solo dal paziente quindi una patologia del condotto uditivo esterno possono essere legate a tappi di cerumo tosclerosi versamenti nell'orecchio malattia di meniere traumi alla testa labirintiti otiti neurinomi dell'acustico pagè paralisi di bel nicotina alcol e anche cocaina oppure oggettivi percepiti anche dal medico per clono dei muscoli del palatomolle dei muscoli auricolari tumori dei glumi ansia disordini temporomandibolari anche alcuni farmaci possono provocare acufeni o tintinnitus anche chiamato l'acufene e quindi beta-bloccanti antidepressivi fans diuretici antistaminici droga eccetera c'è una correlazione tra i disordini cranio-mandibolari e le acufeni si modificano con i movimenti mandibolari e il trattamento odontoiatrico ne determina la risoluzione perché questo? perché l'orecchio e l'ATM hanno uno sviluppo embriologico comune il trattamento dall'osteopata è importante più integratori come l'acufen più bite intraorali che rimuovono il conflitto tra TM e orecchio sono appunto fondamentali poi ci sono le vertigini che possono avere delle cause otorinolaringoiatriche e quindi la sindrome di Meniere le labirintiti il neurinoma dell'acustico lotite medie traumi eccetera e non otorinolaringoiatriche come l'ipotensione posturale il transitoris chemica attacchi farmaci l'emicrania l'ansia la sclerosi multiple eccetera possono essere cause centrali o periferiche oggettive o soggettive l'oggettive se appunto ruota l'ambiente rispetto al soggetto soggettive se è il soggetto che ruota rispetto all'ambiente poi abbiamo le faringotonsilliti che sono delle infiammazioni acute delle tonsille su base virale o batterica se virale la risoluzione avviene in 4-5 giorni e non richiede il trattamento antibiotico se è batterica è importante la terapia antibiotica e sono legati generalmente al cosiddetto sbega cioè lo streptococco betemolitico di gruppo A che colpisce con la malattia metafocale molto spesso organi bersali e distanza come cuore, reni e articolazioni ed è frequente nei bambini dal punto di vista clinico nelle virali avremo un esordio rapido faringodinia odinofagia e disfagia con febbre tra 37 gradi e 37 gradi e mezzo e un aumento di volume delle tonsille le batteriche come quelle virali abbiamo una febbre oltre i 38 gradi centigradi cioè nelle batteriche come quelle virali più o meno però la febbre è più alta e oltre i 38 gradi c'è un essudato biancastro sulle tonsille palatine e delle petecchie sul palato per il resto è uguale a quelle virali diciamo la diagnosi si fa con il tampone paligeo l'antibiogramma l'elisa e il TAS il cosiddetto titolo antistreptolisinico dove si vedono gli anticorpi verso la streptolisina la terapia può essere farmacologica o anche chirurgica dove si incide sulla tonsilla per drenare l'ascesso la tonsillectomia un tempo si eseguiva adesso non viene più eseguita perché ovviamente è stato visto che può provocare diciamo un rischio emorragico importante per un decorso anomalo dell'arteria carotide interna e poi anche la cosiddetta sindrome di Eagle poi abbiamo l'ipertrofia delle adenoidi che sono appunto questo aumento di volume delle adenoidi di grado 1 se l'ostruzione del 25% del lume faringeo grado 2 del 50% 3 del 75% e 4 del 100% la rimozione chirurgica non è indicata vanno incontro a regressione spontanea e possono provocare osas però di questo ne parleremo nelle abitudini viziate in ortodonzia poi ci sono le riniti possono essere infettive se legate appunto a virus batteri o miceti infiammatorie se sono legate ad agenti fisici o chimici vasomotorie allergiche o aspecifiche atrofiche senili e acute la diagnosi è clinica con la rinomanometria con i prick test quindi pristerast con la citologia nasale il trattamento antistaminici cortisonici aloterapia sulla terapia con i sali e antileugotrienici tra le altre patologie da conoscere di confine c'è la sindrome del seno cavernoso come tutti noi sappiamo e come ho già detto nel video di anatomia il seno cavernoso non è altro che una struttura appartenente ai seni della dura madre presente accanto alla sella turcica e questa patologia questa infezione che coinvolgeva questa struttura anatomica era fatale prima dell'avvento degli antibiotici è legata a sinusiti a neurismi tumori foruncoli nasali addirittura e infezioni dentali può dare complicanze come cecità scesso cerebrale ictus e sepsi clinicamente avremo avremo neurismi dell'arteria carotida interna edemi periorbitari softalmo calo del visus dolore calo dei riflessi papillari il trattamento si esegue con gli antibiotici poi abbiamo appunto anche le otiti abbiamo infatti le cosiddette otiti esterne medie e anche interne che possono avere appunto diverse cause e poi le sinusiti le sinusiti sono delle infiammazioni dei seni paranasali acute se durano da meno di otto settimane o croniche se durano da più di otto settimane il trattamento delle sinusiti prevede l'aloterapia l'utilizzo di congestionanti nasali antibiotici steroidi topici antifungini e chirurgia ma l'odontoiatra quelle che interessano principalmente sono appunto quelle diciamo odontogene che sono unilaterali possono essere legate a micosi profonde actinomicosi comunicazioni orantrali ascessi e paradentiti periapicali croniche tumori riniti impianti rialzi di seno che performano la membrana di schneider cementi endodontici che provocano overfilling o overlapping clinicamente avremo alitosi rinorrea ascesso periorbitario trombosi del seno cavernoso può esserci cefalia frontale e dolore esacerbato da trigger point la diagnosi risonanza magnetica TAC rinoendoscopia e diafamoscopia però oltre a conoscere diciamo su chi stiamo tra virgolette operando dobbiamo anche conoscere dove operiamo e quindi tutte le varie limitanti anatomiche nella mandibola posteriore la mandibola anteriore e la maxilla nella mandibola posteriore cioè quella porzione della mandibola dietro il foro mentoniero dovremo stare attenti al fascio vascolo nervoso al violare inferiore al nervo linguale al nervo miloioideo all'arteria miloioidea e al muscolo miloioideo al nervo buccale che è un nervo sensitivo e si può appunto incidere cioè recidere se si fanno delle incisioni verso il trigono è l'arteria facciale che si rischia di reciderla per interventi supremolari o molari inferiori a livello dei fornici vestibolari a livello della mandibola anteriore dobbiamo stare attenti al fascio neurovascolare incisivo e mentoniero all'arteria sottomentale ai doti delle ghiandole sottomandibolari e sottolinguali all'arteria linguale al pericolosissimo plesso sinfisario a livello della maxilla dobbiamo prestare attenzione al fascio vasculonervoso palatino al nervo inforbitario col suo fascio anche vascolare al seno mascellare al dotto di stenone alla bolla del bicià alle arterie leabiali alla fossa aptericopalatina all'arteria palatina maggiore che è pericolosissima e al nervo facciale bene con questo video finito poi in un prossimo video vedremo quali sono le urgenze e le emergenze in odontoiatria grazie 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 grazie